Come ha reagito Trump alle prime audizioni pubbliche sull'impeachment? Ridicolizzando i testimoni e parlando d'altro. Per lui questa faccenda della messa in stato d'accusa è una montatura dei democratici e le testimonianze di ieri dell'ambasciatore americano in Ucraina William Taylor e del funzionario George Kent del Dipartimento di Stato, durate in tutto sei ore, non meritavano di essere viste neanche un minuto. Sono rimasti immobili, con lo sguardo assente e in silenzio, incapaci di rispondere. A una persona normale dovrebbe bastare per porre fine al caso, ha twittato. Taylor in realtà ha raccontato che Trump, lo stesso giorno in cui telefonò al presidente ucraino Zelensky per chiedergli di indagare sul figlio di Biden, telefonò anche all'ambasciatore statunitense presso l'Unione Europea Sondland per capire l'umore degli ucraini sulla vicenda che ha innescato la procedura di impeachment. Kent invece ha detto che le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina hanno risentito delle pressioni fatte a Zelensky dall'avvocato personale di Trump, Rudolph Giuliani. Da parte sua, Trump in queste ore esulta per il nuovo record di Wall Street e litiga per l'ennesima volta con il capo della Federal Reserve, che si ostina a non tagliare i tassi. Lui invece si ostina da otto anni a non comunicare la dichiarazione dei redditi. I democratici sospettano che abbia gonfiato il valore delle sue proprietà per ottenere prestiti, ma un giudice di Washington ha appena respinto il suo ricorso. Subito però uno dei suoi avvocati ha detto che la decisione verrà impugnata davanti alla Corte Suprema, dove la maggioranza è repubblicana.